Ecco a voi, tanto atteso, vuota spesa Innanzitutto corro a mettere nel congelatore questi due gelati Uno al magnum alle mandorle e l'altro al caramello salato Questo è il mio preferito Abbiamo preso tre pacchi per i gatti, due manzo e pollo e una salmone e tonno Poi abbiamo preso lo sciroppo d'acero, questo è buonissimo Biscotti integrali per nonna Per voi invece abbiamo preso questo tipo di biscotti savoiardo e i classici Che voglio farci tipo la sorta di tiranissima un po' più light Latte al pro per nonna Album perché nonna vuole che le faccia i pancake Finalmente nonna ha trovato la crusca perché secondo me è molto più buona dell'avena Per fare il porridge, la consiglio Merendine varie, queste qui sono buonissime, credo siano francesi Beh sono tipo delle tortine soffici al cioccolato, buonissime E poi il milka che anche questo mi sa è da mettere in frigo Questo latte macchiato di Starbucks domani per fare colazione Buonissimo il caramello Yogurt alla vaniglia senza lattosio Anche questo mi sono in frigo Zucchero Di canna Altri schifezze vari Abbiamo preso due tipi di patatine Queste sono benissime, sono le mie preferite Con lime e superosa E le patatine classiche, secondo me quelle più buone Sono queste Poi abbiamo preso anche altre cose che però le abbiamo date a mamma Per un totale di 93,95 euro Ciao ciao